Il progetto della mostra Women nasce da un numero speciale di National Geographic del 2019 è un numero speciale dedicato alla condizione della donna nel mondo, nello spazio e nel tempo perché questa mostra racconta l'evoluzione della condizione femminile dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri un filo sottile che unisce la forza delle donne, la bellezza del mondo femminile la capacità delle donne, la determinazione delle donne comunque di andare avanti nonostante tutto in qualsiasi luogo del mondo Grazie